Noi sui video siamo io e Ryan, Ryan è su... comunque anche lui sta per registrare No, no, prendi anche te il coso per registrare Ryan sta registrando il suo, vabbè io sono Francesco comunque Ecco Ryan è qua comunque Arrivo Eccomi ragazza Chunk, avventate 3, 2, 1, go Buongiorno a tutti ragazzi per questo nostro video, io sono Ryan e oggi stiamo nel... Torna indietro, ora vabbè No, brah Devi cliccare il pulsante Anche te Però aspetta Guarda c'è la pizza Sì va bene Gabriele Anche ci gioca Sì domani Con te No con me non gioca Il tuo Il tuo Il tuo Basta Il tuo C'è scritto il tuo Oggi siamo in un gioco un pochetto parkour Nooo Infatti Ryan è caduto Lì ci sono le persone Vai ora Lei qui Vabbè che cosa Doom Ahead Ahead Non lo so basta Se non ti ho detto prima Moriremo qua Ok ho capito cosa Nooo Ma dai mi mancava l'ultimo Arrivavo la fine Ma va Ma va Ma va Ma va Il nuovo gioco Ma è il complanno di mio nonno Eh Ma è il complanno di mio nonno Lo so ma l'hai detto a scuola Mi sento Fra aspetta No Posso vederti Ma sa che qua c'è il ragno Ah no fra 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 Qua devi seguire le pizze Perché Perché gli altri C'è il coso Lì Il pizzaiolo assassino Anè anè sì Anè 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 sì Eee Eee Dai seguiamole C'è ancora No No Però dopo sì Ti smamma Sono morto No dai No Non fa Non fa un cacchiare No Ti chiamo no Perché non la vogliamo Tutta Mac Vabbè 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 Ryan Non fammi scherzo Ryan Scherzo Dai vieni Che dobbiamo Giocare Vabbè Non mi fa Va bene Perché non c'è internet Comunque Non voglio il pacchetto Farballare Non voglio Il pacchetto cacca Farfalla Farfalla Echina Basta Rifatemi risalire Rifatemi risalire No Ma come Dai Ryan provaci Mi fa cacchiare sto gioco O l'hai scelto te Sì E l'hai scelto te Sì E l'hai scelto Ma ci provo Ma ci provo Ma non mi salta Vabbè Vabbè Mi salta Ora te Però prima e poi dopo Mi salta No Ero all'ultimo Oh Stavo cadendoci ho fatta Toh finalmente Ti amo gioco E provola devi fare ancora Tu No Ma te devi fare ancora Tu Ok Perché mi ami così tanto Gioco Una E' vero fra Fra davvero l'ho vista Scherzo Non l'hai scritto No no Non l'hai scritto Clicchiamo sempre no eh Se mi dicono di acquistare E' tonino Thomas Scherzo Tonino Chamas Noi non li guardiamo queste cose Massimo Ryan Poco 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 Ma io ora sono Sono in tryharding Con Ryan Che è ancora indietrissima No No in realtà Sono alle trappole per osse Vabbè ma sei ancora lì Io ormai sono nelle fogne Eh Aspetta ma ti raggiungo Dove non ti arrivo da te Sì ma non lo so È perché Ti farà un po' disperare Anche se poi è easy Miau 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 Ma basta Ma Questa qui è per un altro Ma Miau Basta Ryan Dobbiamo registrare Sì ma ora dobbiamo Veramente registrare Ok Wee orte ceci Wee orte cacca Doom sta arrivando Doom è il mostro Ah il tuo Doom Il tuo mostro Significa Perché Doom è il mostro Non toccare il co-web Vabbè ma non è Adesso c'è il ragno Ora c'è il ragno da me Non voglio un ove Aspetti Nooo Lo faccio Quale? Questo Devi cercare di schivare le ragnatele e non toccarle Miau 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 Ma qua come faccio? Ah puoi saltare doppio mi sa Ero Non so Almeno che non cerco C'è di accovacciarmi È proprio in qualche modo Miau 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 Non voglio le cuffie Disco che non servono a niente Miau 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 Ci siamo a Sei minuti di video Già sto disperando C'è guardate Sì Finalmente ci sono riuscito Vabbè ancora Buonanotte pizze Buonanotte pizze Miau 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 Però veramente C'è Dovrebbe essere easy Perché i bambini Dovrebbero I bambini piccoli Dovrebbero giocarci Infatti Lo dicono nella description Esatto Piccolissimo Sarveni piccolissimo Mimini 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 Sottino piccolino La Non posso Guarda Mi si aspetta Dai Cioè vi fate sperare Sto gioco E vabbè, appena arrivi alle co-web, ci credo. Appena arrivi alle? Ka-web. Ah. Co-web vuol dire... Ragnatele. No, ragnatele. Non c'è. Vedi, ma è impossibile! Non faccio io? No. E faccio? Non è facile. Per me. Sì, guarda Nora. Capri, lascia stare. Sì, per me è facile. Eh, va bene. Ma... C'è... Ecco, sei anche te lì? Ryan? Per il co-web. Dimmi. Sei anche te lì? Sì. Sono appena arrivato, madonna. No! Te l'ho detto! No! Ma solo perché ho toccato le scherze. L'ho trovato... Ma non è un gioco. Dubido gioco. Dove devo andare un attimo nel bagno. Dubido gioco. Voi non seguitemi che devo andare un attimo nel bagno. Un bagno? Verando che non mi guardino. Fatto. Ma te me l'avevi visto? Tamm, namm, namm, namm. Namm, namm, namm. Fra c'è paura. Ma qual è la come cacchio ha fatto... Adesso si legge così in fondo con la... Hai paura della fondetta. Sì, gioco. Stavranno giocando... Ma perché è che non ho toccato un corno? Guarda la cacca. Sì, quando ce ne sono... Ma perché è che non l'ho toccata? Ma anch'io. Vabbè, ragazze, per questo video... Posso dire che basta. Ci sono riuscito! Scherzo. Per questo video, Ryan, vi salutiamo. No, io ancora no. Allora, anch'io. Cioè, facciamo l'ultimo tentativo uno, io, no, Ryan. Ecco. Sì, finalmente. No, Fra! Potevi andare attraverso una ragnatela. Ah! Miau, 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 miau. Una di quelle due, quella sopra. Lo soltavi normalmente e ci riuscivi. Ok. Miau, miau. Ci sei riuscito? No, no, no. Perché sono ancora... Perché mi ha mangiato. Mi mangia sto ragnatela. Ma l'ha sbagliato! Anch'io. Allora, non è vero. Ah, perché ti l'ho messo. No, forse a volte succede che... Vabbè, io e Ryan vi salutiamo. Anche te saluti. No, io ci bruno. No, saluti. Vabbè, ok. Io e Ryan salutiamo e... Ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate like. Ciao! Grazie. Grazie.